Nel gennaio 2012 nasce nel cuore di Pagani il Centro per l'Infanzia e i Monelli, sito indiesante Erasmo. Grazie alla passione per i bambini condivisa da due amiche, Giussi Fiore e Mariella Celentano, si dà vita ad un progetto di cui inizialmente non si conoscono le sorti, ma che poi da sogno diventa realtà. Il loro motto, per insegnare bisogna emozionare. Molti pensano ancora che se non ti diverti non impari. Questo centro per l'infanzia non è semplicemente un luogo di incontro per bambini, ma è un mondo magico, fatto di giochi e spensieratezza. È un centro educativo che raccoglie piccoli fin dalla primissima infanzia e che grazie al lavoro costante e all'impegno delle educatrici che ne fanno parte, aprono loro un mondo nuovo, fatto di socializzazione e di autonomia. La struttura organizzativa dei Monelli è suddivisa in tre fasce orarie, 8, 13 e 30. Si accolgono bambini da 0 a 3 anni. Per loro è stato avviato un vero programma didattico, che come ogni anno, ha inizio l'1 settembre. giornata a manipolazione e delle arti grafiche e pittoriche, idoneo per favorire lo sviluppo dell'espressività creativa. Attività musicali e laboratori per i cinque sensi, chi consolida nel bambino, le abilità sensoriali e percettive. Attività psicomotorie, corpo e movimento, che mira alla maturazione dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico. Le attività pomeridiane hanno inizio dalle ore 15, con doposcuola e ludoteca. Su prenotazione si organizzano feste private e feste a tema, per rendere il tuo giorno speciale immerso in una magia di colori, musica e tanto divertimento. Dal 15 giugno di ogni anno arrivano le vacanze. La ludoteca non termina le sue attività, proponendo un campo estivo ai bambini dei 2 e i 12 anni. Sono accolti dalla scuola di Ballo Bac, sita in via Carmine Pagani. Organizza tornei di calcio, pallavolo e basket. Giochi d'acqua e poi tutti in piscina. Giochi d'acqua e poi tutti in piscina. Giochi d'acqua e poi tutti in piscina.